Ok, io sono venuto qua per rispetto nei vostri confronti, parlo 30 secondi e poi me ne vado, parlo di calcio e vi dico, sono venuto qua perché di partita di calcio faccio i complimenti alla squadra avversaria, per quello che è successo prima della partita e fuori dal campo vi vergogno. In 25 anni che alleno non ho mai visto una cosa del genere, perciò complimenti alla squadra avversaria e buon lavoro a voi.